Siamo in collegamento con Renato Cavallini per avere anche il suo punto di vista di quanto è stato perso e delle strategie per cercare di ripartire dal suo punto di vista. Buonasera a tutti, le strategie sono state perso tanto perché in questo periodo di ferma parte la parte numerica produttiva ma stiamo perdendo più che altro i contatti con clienti perché mentre gli altri paesi, Francia, Germania, la stessa Cina che non si è mai fermata, ha fermato solo la regione, stanno producendo e lavorando. Perciò noi stiamo perdendo proprio i contatti, perdendo contatti si perde Made in Italy. Abbiamo l'esigenza di rientrare nell'azienda il prima possibile o immediatamente anche perché molte aziende se mi concede se ne hanno già messo in sicurezza prima che succedesse il blocco perché appena abbiamo avuto sentore dalla Cina che ci poteva essere un problema le aziende hanno subito, almeno la mia, subito si è adoperata subito con l'emergenza quella di comprare immediatamente le mascherine. Abbiamo comprato subito 2.000 mascherine, subito gel, perciò prima della chiusura dell'azienda già avevamo un distanziamento sociale mascherine e gel. Perciò questo fermo per noi è eccessivo, bisogna in sicurezza come eravamo prima ripartire immediatamente, attuando tutti i protocolli che ci hanno chiesto, ma bisogna ripartire immediatamente. Guardi Cavallini, live, le do una notizia appena arrivata in redazione. Il Governatore Rossi ha firmato l'ordinanza numero 38, sono tante in questo periodo, le misure di contenimento sulla diffusione del virus. Queste riguardano attività di monitoraggio della seroprevalenza, ovvero i test, la gestione degli spazi e delle procedure di lavoro, compresi gli spostamenti da e per il luogo di lavoro, l'importanza di assicurare le distanze di sicurezza normative per predisporre un protocollo anticontagio. Insomma, sembra che tutta la strada si stia preparando nella direzione che anche lei indicava. La data del Governo è quella ancora del 4 maggio, voi però chiedete di far prima. Noi si chiedeva già, la data nostra possibilistica era già quella del 20. Il protocollo che ho intravisto, mentre ero qui in collegamento, quello che ha firmato Rossi, è molto similare al protocollo della moda. Perciò tutte le aziende in questa settimana, a meno quelle che sono state in contatto io, si sono adoperate per attuare subito questo protocollo. Il distanziamento sociale, le mascherine, i gel, le entrate diverse fra i vari reparti nell'azienda, tutte queste cose le abbiamo già attuate, però ora noi abbiamo un problema grandissimo. Perdere il contatto con i clienti, perdere il nostro Made in Italy, che un'azienda come la mia, che è 56 anni, che è sul mercato, capisci bene, la nostra lotta è stata quella del Made in Italy, non possiamo non lottare per difendere il nostro Made in Italy e i nostri dipendenti, perché i nostri dipendenti per ora abbiamo anticipato la Cassa Antigrazione, abbiamo fatto tutto quello che era nelle possibilità, perché essendo una ditta di 30 persone, ci conosciamo, lavoriamo con loro, noi abbiamo l'esigenza di tutelare i nostri dipendenti, la nostra famiglia, perciò bisogna ripartire in massima sicurezza, anche perché noi... Lei ha fatto un conto sulle perdite, prima abbiamo fatto il focus della Camera di Commercio di Firenze, ci parla di un meno 24% a marzo, la proiezione su aprile va addirittura oltre il 30%, lei l'ha fatto un conto? Sì, naturalmente, purtroppo l'azienda ha subito, una parte degli ordini che avevamo nel caniere per produrre, ha avuto una serie di annullamenti, c'è già una perdita artissima, sia economica che rispetto verso clienti, e dopo ci sarà una perdita del 30-35% sicuramente, come abbiamo una perdita di produttività, con Mettisi in sicurezza, tutto questo però, mi creda, ci può stare, ora bisogna però riprendere il possesso dell'azienda, poi da lì vedremo come fare con gli aiuti che ci potrà fornire la regione, però quella è una fase, secondo me, successiva. Io da parte mia, l'esigenza mia è riprendere il possesso dell'azienda, per fargli un esempio, una nave in mezzo a mare, con mare mosso, senza il comandante, affonda la nave e muore il comandante. Questa è la nostra situazione, siamo piccole aziende dove bisogna tutelare noi stessi, i nostri clienti, i nostri Made in Italy e i nostri dipendenti. Perciò il mio appello è quello di farci rientrare immediatamente.